Controlli serrati da parte dei carabinieri nell'entroterra del decimo municipio. Nel corso di un'operazione estesa a tutto il territorio di Acilia è stata eseguita un'ispezione accurata all'interno del parco della Madonnetta recentemente sgomberato a seguito proprio di un intervento delle forze dell'ordine. In una struttura di proprietà comunale presente nell'area i militari hanno identificato e denunciato cinque persone tutte senza fissa dimora che forzandone nuovamente l'ingresso si erano introdotte nell'edificio trasformandolo in un luogo di bivacco. Uno dei cinque, un 53enne romeno, è stato deferito anche per aver accumulato numerosi rifiuti ingombranti. Successivamente i controlli sono stati estesi ad alcuni esercizi commerciali della zona, in particolare in un ristorante gestito da un 49enne cinese sono emerse gravissime carenze igieniche in relazione alla conservazione e alla tracciabilità degli alimenti. Il locale è stato sequestrato e il titolare denunciato. Altre cinque attività sono state invece sanzionate per violazioni della normativa sulle sale da gioco e per il mancato rispetto delle misure per il contenimento del virus.